In questo momento è una squadra anche un po' corta, a disposizione difficile riuscire a inventarsi di cambiare qualcosa quando poi si subisce un gol in questo modo. Un po' se c'è rammarico per quelle occasioni iniziali di Vasquez e sul primo gol se c'è stato un errore di Sernicola o ovviamente dopo la grande giocata di Karaschedia. Allora, partiamo dalla fine. Possiamo essere bravi, ma se hai questo, che tu sappia gestire meglio quelle situazioni perché da quelle situazioni può succedere qualcosa di pericoloso e quindi devi essere bravo a far sì che questo non accada. Sul fatto di essere corti, noi siamo arrivati a metà gennaio e la Cremonese a metà gennaio più o meno rispetto alla Rosa iniziale ha perso sette giocatori se non sbaglio. Ne sono arrivati due, Ferrari e Benassi mi pare. Abbiamo perso sette giocatori e poi ci mettiamo anche, ma però non sono fatto così, ci mettiamo anche quelli che magari potevano questa sera darci una mano. Mi riferisco a Occhereke, a Dessers, a quei ragazzi che non c'erano, ma però io vorrei sottolineare l'atteggiamento e comunque la buona prestazione. Per un'ora la Cremonese è stata in partita, poi è chiaro che quando vai sotto di due gol col Napoli, a Napoli con questa atmosfera, con questa preparazione della gara, perché l'avevano preparata proprio perché volevano darci qualche schiaffo buono, perché si erano offesi per l'eliminazione in Coppa Italia, quindi erano offesi. Abbiamo incontrato una squadra che aveva voglia di una sana rivincita e quindi tutto questo ha contribuito al risultato finale. Prego, Tuminello, grazie. Buonasera mister, condivido con lei l'analisi, in primi 60 minuti circa abbiamo visto una buona squadra che teneva bene al campo, pressava il portatore, poi è successo quello che è successo, l'abbiamo visto. Da qua a giugno comunque è ancora lunga, quindi dove trovare lo spirito, la speranza, anche come messaggio da rivolgere agli oltre 300 tifosi che sono arrivati da Cremona? Dove trovare la speranza per la salvezza? La speranza per me la trovi con l'atteggiamento giusto, con delle prestazioni ancora più importanti. Il messaggio è questo, per me questa squadra con questo atteggiamento, facendo delle prestazioni di spessore, facendo sempre meno errori, la Cremonese per me è destinata a fare delle belle partite e quando tu fai delle belle partite poi il risultato ti arriva. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è fare delle grandi partite, limitare gli errori e il risultato in Serie A arriva se fai questo. Altre domande? Coelli? Buonasera mister, insomma stasera una piccola notaglietta è arrivata dal debutto in Serie A del giovane Acella che lei praticamente ha avuto a disposizione una settimana e era l'ultimo giocatore di movimento, se non erro, che non aveva ancora esordito in Serie A con la Cremonese. Insomma in questi mesi un po' così anche per via della rosa che è abbastanza ridotta può esserci più spazio per qualche ragazzo che magari ha anche un po' di freschezza che in questo momento può tornare utile? Ma certo, siamo talmente, insomma abbiamo una rosa corta e speriamo di avere comunque tutti i ragazzi a disposizione ma come hai detto giustamente tu lo spazio c'è per tutti poi dopo bisogna essere all'altezza, quello è un altro discorso però lo spazio in una rosa così come la nostra c'è la disponibilità, la voglia di fare bene c'è è chiaro che ci sono le categorie per una ragione non è che 10 minuti in Serie A ti fanno, insomma sei un giocatore di Serie A assolutamente no però ecco avevamo piacere di vederlo ho messo lui, più che Galdames che conosco che Galdames verrà certamente buono sottolineo verrà certamente buono per le partite che ci saranno da qui in avanti ma ho messo Cristian a cella perché avevo piacere di vederlo ecco in una situazione di gara importante come quella di questa sera prego andiamo dal collega prego buonasera mister buonasera cosa manca alla Cremonese per provare ad invertire la rotta stasera ha dato l'impressione di essere una squadra anche compatta quindi è, vogliamo dire, l'attacco il problema magari Okerega e Dessers mancavano però finora non hanno inciso forse come dovevano beh, intanto la Cremonese alla vittoria c'è arrivata in Coppa due volte è chiaro che la vittoria manca dall'inizio in campionato ma se tu hai questo atteggiamento sottolineo questo atteggiamento questa voglia di le motivazioni forti che ci devono essere perché hai il dovere di invertire come hai detto giustamente tu la rotta per me la Cremonese è vicina a cambiare a svoltare quindi per me la Cremonese è vicina perché mi dà delle sensazioni che mi portano a dire questo siamo vicini al cambio al virare su risultati migliori Prego, c'è spazio ancora per una domanda Salve, mister, buonasera come mai poi la scelta di non schierare Ciofani non ci aspettavamo tutti quanti che fosse lui al centro dell'attacco stasera grazie noi abbiamo come primo attaccante sia Ciofani che Frank non dico il cognome perché faccio fatica Saju e quindi questa sera abbiamo fatto giocare Frank dall'inizio perché poi magari la partita la pensavamo così molto intensa molto combattuta e quindi magari volevamo avere Ciofani l'ultima mezz'ora un Ciofani magari più fresco questa era l'idea però questo è stato questo è il motivo